giornata intensa questa abbiamo iniziato con il dottor colao e con alcuni componenti del comitato degli esperti con cui abbiamo discusso il loro piano che ci ha consentito è stata un'ottima base per consentire al governo di poter elaborare il piano di rilancio che oggi avete visto pubblicati un po su tutti i giornali poi abbiamo incontrato i rappresentanti delle associazioni sindacali è stato un incontro intenso perché abbiamo voluto coinvolgere quante più sigle possibili adesso la giornata in realtà non è finita perché incontreremo sono lì che attendono i rappresentanti degli enti locali quindi dei comuni delle province delle regioni e delle province autonome abbiamo toccato tanti temi perché i progetti che presentiamo nel piano di rilancio sono numerosissimi e abbiamo in particolare parlato molto di lavoro ovviamente di occupazione di politica attiva del lavoro però discusso alcuni progetti in questa direzione e devo dire che abbiamo esposto la linea e riassunto la linea del governo non sarà sfuggito i cittadini italiani che questo governo ha fatto una scelta sin dall'inizio dell'emergenza a differenza di altri governi non voglio far paragoni ma è evidente che qui noi non lasciamo i lavoratori non li abbandoniamo per strada non consentiamo che siano licenziati è una politica molto onerosa dal punto di vista finanziario perché soltanto è l'ultimo decreto rilancio adesso che i ministri lo sanno meglio di me ma dovrebbe essere all'incirca 25 miliardi stanziati per perseguire questo obiettivo in altri paesi hanno già tantissima disoccupazione noi qui in italia non la vogliamo la vogliamo prevenire la vogliamo evitare e da questa sera adesso la ministra catalfo ce ne parlerà portiamo in consiglio dei ministri proprio un decreto che consentirà a imprese lavoratori che hanno già accumulato le 14 settimane di cassa integrazione di poter anticipare e accumulare subito ulteriori quattro settimane ma il nostro intento è ancora di un intervento più organico vogliamo riformare le misure di protezione gli ammortizzatori sociali e la cassa integrazione questa emergenza ci ha posto di fronte a questa necessità di utilizzare uno strumento che si è rivelato però farraginoso lo vogliamo riformare e semplificare poi oggi alta novità di giornata abbiamo la possibilità già di richiedere online i contributi a fondo perduto questo riguarda piccoli commercianti artigiani partite iva imprenditori piccoli imprenditori che fatturano sino a 5 milioni di euro che ha subito danni perdite può chiedere contributi a fondo perduto non vi preoccupate non c'è un click day avete 60 giorni per farlo avrete sino a 40 mila di euro a 40 mila euro di ristoro ovviamente commisurati alle perdite dei danni che avete subito queste e altre misure di queste altre misure abbiamo discusso e anche di più complessivo piano di rilancio vogliamo continuare a lavorare a confrontarci con tutte le forze produttive sociali e culturali del paese le giornali sono molto intense ma anche molto gratificanti stiamo lavorando per il nostro paese nell'interesse di tutti i cittadini vista catalfo sì grazie una giornata importante un confronto che è iniziato oggi con le parti sindacali con i sindacati confronto che io ho iniziato già il 23 febbraio al giorno della dell'inizio dell'emergenza sanitaria che oggi si è rafforzato un confronto che porterà un valore aggiunto a tutto quello che sta facendo e farà il governo partiamo da oggi oggi ci sarà un decreto che darà la possibilità di utilizzare ulteriori quattro settimane finite le prime 14 che sono previste appunto dal decreto rilancio questo però dovrà portare comunque come dicevamo prima a una riforma degli ammortizzatori sociali abbiamo l'avevamo detto prima ancora che iniziasse l'emergenza sanitaria che il sistema era frammentato faragginoso e noi con l'emergenza sanitaria ne abbiamo avuto estrema contezza vanno riformati gli ammortizzatori sociali va fatto una misura che sia non più una politica passiva ma più vicina alle politiche attive del lavoro che aiuti i lavoratori anche in transizione da un posto di lavoro a un altro che investa sulla formazione che tuteli tutti i lavoratori perché come sappiamo gli ammortizzatori sociali esistenti in Italia in questo momento non tutelano tutte le imprese e tutti i lavoratori italiani ma invece va fatto in modo che sia così abbiamo messo già un primo tassello sulla formazione sulle politiche attive del lavoro su quanto possa essere importante possa dare un valore raggiunto al lavoratore e all'impresa investire in formazione ce lo dicono tutti ne abbiamo parlato con l'Europa l'ha previsto anche la task force di Colau lo prevediamo noi l'importanza di investire sia nella formazione continua dei lavoratori sia nella formazione dei lavoratori in transizione ma l'importanza di investire nei giovani nei giovani che devono inserirsi al lavoro che in questo momento già prima erano in difficoltà ma ancora di più lo potranno essere in questo momento quindi ancora di più bisogna investire in questo investire nelle donne investire nella formazione delle donne nell'inserimento lavorativo delle donne nel lavoro nella possibilità per le donne di avere di essere donne imprenditrici cioè di creare di creare lavoro di creare impresa questi sono i tasselli il contrasto tra l'altro alla contrattazione pirata la detassazione dei rinnovi contrattuali, il salario minimo orario, lo smart working e iniziare a fare un punto importante sullo smart working l'utilizzo dello smart working in questo periodo è stato molto intenso nella pubblica amministrazione ma noi abbiamo anche i dati nel settore privato è stato davvero importante poterlo utilizzare ed è giusto anche che si faccia un punto su questo tema ci sono poi il tema importante della famiglia, abbiamo già messo in atto il family act quindi un importante provvedimento che riguarda la famiglia ma bisogna anche puntare su tutto il resto e un punto centrale è quello della disabilità quindi fare un codice che riguardi la disabilità, che riguardi la non autosufficienza e occuparsi anche di tutte quelle famiglie e di tutte quelle persone che fanno la car giver cioè che si occupano dei loro familiari perché sono non autosufficienti o sono disabili poi un altro punto importante che già stavamo portando avanti è quello sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è importante centrare, dare forza a questo ne abbiamo parlato prima dell'emergenza sanitaria ne abbiamo continuato ed è stato un punto centrale per gestire la fase 2 con i protocolli di sicurezza sul lavoro insomma tutti i punti fondamentali e importanti per poter rilanciare il paese sulla base dell'occupazione, rilanciare le nostre imprese rilanciare i nostri lavoratori e fare in modo che questa emergenza sia non un'occasione per tornare indietro ma un'occasione di rilancio vero per il paese Roberto Grazie, buonasera a tutti come è stato ricordato oggi è stata una giornata intensa abbiamo avuto modo di interloquire con Vittorio Colau e con tutti i membri del suo gruppo e di ringraziarlo per il lavoro eccellente che hanno svolto per l'impostazione che in sintonia con quella che questo governo sta perseguendosi dalla sua formazione e cioè di costruire un percorso di sviluppo investendo in particolare sulla innovazione, sulla sostenibilità sulla coesione sociale e territoriale, sulla formazione e per le proposte concrete che ci hanno presentato, offerto sulle quali stiamo lavorando per tradurle molte di esse in pratica e su cui continueremo anche con loro un'interlocuzione nei prossimi giorni e nelle prossime settimane molto positivo è stato il confronto con i sindacati che hanno espresso una forte condivisione dell'impostazione che abbiamo presentato del programma di rilancio del Paese incentrata molto sul rilancio degli investimenti pubblici sugli investimenti privati sulla semplificazione e sulla centralità naturalmente del lavoro e della sua qualità temi su cui il Ministro Catalfo ha appunto ricordato una serie di approfondimenti che abbiamo avuto poi oggi è una giornata positiva, importante anche sul fronte dell'attuazione delle misure che ci ha prese perché da oggi, dalle tre, è partita l'operatività del nuovo sito dell'Agenzia delle Entrate per il ristoro a fondo perduto per imprenditori, artigiani, commercianti, agricoltori con un fatturato fino a 5 milioni di euro e si tratta di una procedura molto semplice che è operativa e quindi tutti coloro che rientrano in questa categoria possono fare domanda sta andando molto bene noi naturalmente teniamo le dita incrociate ma come è stato ricordato non è un click day ci sono 60 giorni per fare domanda ma le domande saranno processate con la massima rapidità e l'obiettivo di arrivare al bonifico entro al massimo 10 giorni e quindi inauguriamo oggi anche questo ruolo dell'Agenzia delle Entrate che per un po' fa anche l'Agenzia delle Uscite che è una cosa giusta in una fase come questa quindi il nostro obiettivo è quello di saldare anche l'attuazione delle misure che abbiamo preso la messa a terra di tutte le risorse stanziate affrontare anche situazioni nuove per cui questo decreto di questa sera è molto importante per continuare nella linea che abbiamo perseguito fin dall'inizio di non lasciare indietro nessuno quindi di garantire sempre la protezione sociale a tutti i lavoratori e poi appunto l'attuazione delle nuove misure la predisposizione di questo grande piano che deve essere analitico, dettagliato che ci deve portare a essere pronti a settembre vogliamo essere tra i primi paesi europei che presentano un piano ampio e approfondito per l'utilizzo anche di queste risorse importanti che può costituire un'occasione davvero unica di rilancio del paese Presidente, io volevo chiederle del MES dell'attivazione del MES se è possibile considerare un percorso per un accordo della maggioranza sulla richiesta di accesso al MES e con quali tempi e soprattutto da parte delle opposizioni oggi arriva l'accusa al governo di voler evitare il voto mercoledì in Senato sulla risoluzione che aveva pronta più Europa con Emma Bonino perché il governo non vuole impegnarsi fin da ora a dire cosa farà col MES Guardi, per quanto riguarda il mio passaggio che ci sarà mercoledì è un passaggio peraltro che non era strettamente obbligato perché non è previsto un consiglio europeo ma informale sarà quello di venerdì però come sempre, come altre volte molte altre volte ho fatto passerò alle camere per informare in ogni caso quelle che saranno ragionalmente le discussioni quelle che saranno le discussioni che avremo al Consiglio europeo informale di venerdì e da questo punto di vista lei mi chiede il MES non ci sono novità all'orizzonte rispetto a quello che abbiamo già dichiarato c'è una discussione ovviamente un dibattito ognuno ha le proprie valutazioni noi come governo in questo momento abbiamo detto non la posizione e che non c'è la necessità in questo momento di attivare il MES non abbiamo questa necessità ovviamente dovremo sempre costantemente aggiornarci col quadro di finanza pubblica e il Ministro Gualtieri dovrà riferirci alla ragione di idea dello Stato sull'andamento ovviamente in una situazione come quella che stiamo attraversando l'abbiamo anche constatato nel confronto che abbiamo avuto con le autorità anche massime autorità economiche europee e mondiali non ci sono delle certezze perché in questo momento l'andamento anche dell'economia è un andamento tra virgolette imprevedibile noi ovviamente faremo costantemente di conto quello che ho detto è che semmai dovremo fare delle valutazioni in questa direzione le faremo con il Parlamento quindi in questo momento non c'è nessun cambiamento rispetto a quella posizione che ho già anticipato Buonasera Presidente mercoledì sarà qui Confindustria che insomma oggi lamenta l'assenza di un piano dettagliato di un cronoprogramma in vista appunto della ripartenza e anzi insomma si propone propone lei stessa un piano che sarà pubblicato su un libro anche volevo sapere insomma come replica a Bonomi vedo che la battuta che ho fatto a una delle ultime conferenze stampa sul Confindustria che non si presenti solo con un piano di taglio delle tasse ha avuto l'effetto che speravo e cioè quindi hanno preannunciato un piano anche loro ben venga non si dica che il governo non ha elaborato un piano credo che oggi su tutti i giornali erano un po' anticipato credo nella versione definitiva la versione definitiva contiene l'indicazione di 187 e progetti specifici abbiamo lavorato tanto quindi il governo non ritiene questa una passarella sarà un confronto come lo è stato già oggi mirato su progetti specifici ho chiesto anche a tutti i sindacati che oggi sono sfilati e hanno partecipato a questo confronto con il governo di farci anche pervenire nei giorni prossimi delle osservazioni dettagliate ma sui progetti capisco valutazioni sintesi le abbiamo fatte le abbiamo condivise però adesso abbiamo bisogno di suggerimenti di idee su progetti concreti se Confindustria ha lavorato in questi giorni ha raccolto l'invito del governo nel modo più giusto perché la Consiglio questa è una competizione virtuosa per il futuro del paese benvengano li attendiamo buonasera Presidente buonasera Ministri Presidente le chiedo a proposito di quello che sta succedendo all'interno del Movimento 5 Stelle ieri c'è stato un po' uno scontro botte e risposta a distanza di Battista Grillo si è aperta un po' la corsa alla leadership e lei il suo nome è finito dentro lei se la sente o è in corsa per una futura leadership del Movimento 5 Stelle e poi non teme che questo dibattito interno al Movimento possa creare problemi all'interno della maggioranza? guardi non non credo sia opportuno e non mi sento di valutare vicende interne a una delle singole forze politiche che sostengono la maggioranza posso parlare per me questo sì io ho un incarico in questo momento che è forse il più sfidante che si è dato di vivere nel contesto politico istituzionale in questo momento storico il Presidente del Consiglio siamo capitati non l'abbiamo certo preventivata ne potevamo farlo in questa emergenza abbiamo attraversato delle settimane e dei mesi durissimi li abbiamo vissuti e condivisi con tutta la comunità nazionale con tutti i cittadini adesso dobbiamo cercare di progettare come stiamo facendo e come io dico non dobbiamo ripristinare la normalità dobbiamo far meglio dobbiamo essere migliori perché chiaramente in Italia abbiamo sempre scontato negli ultimi anni una bassa crescita della produttività del prodotto lordo eravamo sempre siamo stati sempre al di sotto della media europea dobbiamo far meglio e questa è la ragione di questi confronti e questa è la ragione dei 187 progetti che abbiamo elaborato e che vogliamo condividere con tutte le forze sane del Paese detto questo io ho iniziato questa esperienza avendo altra occupazione quindi una situazione sicuramente anomala anomala perché avevo altre occupazioni e non pensavo di poter avere l'onore e il privilegio di ricoprire questo ruolo e di impegnarmi per compiere un servizio così alto e elevato per il Paese ho una occupazione lo dico quindi a tutti quanti coloro che ovviamente elaborano sondaggi inserendomi inserendo la figura di Conte tra le domande che vengono diciamo con cui tutti i cittadini vengono chiamati a rispondere lo dico ai compagni di viaggio in questo momento noi stiamo facendo un'esperienza bellissima questo impegno è già così sfidante mi assorbe completamente ho un'occupazione domani se terminerò questo servizio e ritorno a fare quello che facevo sarò contentissimo quindi non c'è un problema di uno spazio di un'occupazione da trovare per il sottoscritto grazie buonasera Francesco Saita della DN Cronos buonasera Presidente buonasera senta le volevo chiedere lei prima ha detto che non lascerete nessuno indietro nel lavoro che c'è questo impegno e lo ha detto anche il Ministro Gualtieri domenica vi siete visti per la questione ILVA ci può dire a che punto sta sul numero degli esuberi un dato certo su questo è la prima domanda che ha più a che fare con gli stati generali la seconda velocissima invece sull'opposizione per quanto riguarda questa dialettica che non è mai partita in realtà negli ultimi tre mesi e questa è una peculiarità italiana perché negli altri paesi c'è stata una collaborazione tra le forze del governo e le forze dell'opposizione quanto pesa tutto questo nella riuscita del vostro piano? inizio da quest'ultima domanda a me dispiace molto e lo dico francamente che l'opposizione non abbia raccolto questo invito e ho già anticipato che sarò testardo continuerò a formulare un nuovo invito all'esito di queste giornate diciamo che ci sarà anche forse un'occasione in più un valore aggiunto perché avremo anche suggerimenti osservazioni che ci vengono a tutto il mondo sindacale produttivo e quindi potrà essere ancora più proficuo confrontarsi con le forze di opposizioni alle quali dico non vi contaminerete con l'attività di governo non è questa la logica non vi preoccupate potremo anche rimanere con diversità di posizioni con diversità di idee però francamente non raccogliere il nuovo invito che farò significa come ha detto lei rendere diciamo la democrazia italiana anche agli occhi degli altri paesi un po' singolare ecco su questo poi vogliono scegliere loro il luogo ci mettiamo d'accordo se questo è il problema è secondario ma addirittura rifiutare il confronto mi sembra veramente rendere il sistema democratico italiano veramente singolare agli occhi del mondo che ci sta guardando la prima domanda invece era sull'ILVA abbiamo fatto una riunione con i ministri competenti c'era anche il ministro Gualtieri sull'ILVA abbiamo esaminato la proposta che ci è venuta da parte dei Mittal è una proposta che è assolutamente inaccettabile adesso abbiamo già individuato quale sarà il soggetto che se ricordate nel piano di coinvestimento quindi sarà rappresenterà la parte pubblica è in vitalia abbiamo ovviamente a questo punto già delle nostre risposte alla proposta che sono venute abbiamo le idee molto chiare non consentiremo certo che un progetto che per noi rimane strategico del paese possa essere snaturato alterato e quindi reso assolutamente inidoneo rispetto a quello che è l'obiettivo strategico che ci proponiamo di perseguire come politica economica e sociale questo vale anche per gli esuberi che non riteniamo accettabili salve il governo sembra credere nel risparmio degli italiani non a caso dopo il btp italia avete lanciato il btp futura la domanda però è per molti è il prossimo anno qualora i conti non dovessero guardare c'è la possibilità di avviare una patrimoniale è la prima e la seconda tra i progetti che stanno circondi questi giorni c'è quello di far tornare borsa italiana sotto il controllo italiano magari con un ruolo di cassa depositi e prestiti qual è la vostra opinione a riguardo grazie io rispondo alla prima e il ministro risponde sulla seconda per quanto riguarda la prima non c'è nell'orizzonte nostro di quest'anno e dell'anno prossimo una patrimoniale e uno dei punti di forza del nostro risparmio del nostro sistema economico è il risparmio privato il risparmio privato diventa anche una risorsa come stiamo vedendo e abbiamo visto come stanno rispondendo gli italiani quindi dobbiamo cercare come dire di sollecitare ad esempio che questo risparmio si indirizzi verso progetti poi specifici che rispondano bene alla nostra politica economica sociale immaginate la transizione energetica finanziata anche con il risparmio degli italiani ovviamente ma non assolutamente in termini di tassa patrimoniale ma di coinvolgimento in progetti e quindi di strumenti e di titoli semmai abbia che abbiano anche un indirizzo e una connotazione specifica un attimo ministro Valtieri sulla seconda ma il governo come è evidente segue con grande attenzione gli sviluppi societari di borsa italiana con l'annunciata fusione di London Stock Exchange con Refinitiv e le sue implicazioni è evidente che noi consideriamo borsa italiana un asset strategico dalle grandi potenzialità quindi seguiamo con molta attenzione questo dossier Ranucci Talpress buonasera al netto delle infrastrutture quali sono i progetti per il rilancio del sud si parla sempre del sud abbiamo sempre sentito parlare appunto dell'alta velocità infrastrutture quali sono gli altri progetti guardi il ministro Provenzano che tutta la mattinata ha preso parte ai lavori prima che impegni istituzionali lo costringessero ad allontanarsi ha presentato un po' di tempo fa a dire il vero c'ero anch'io a Gioia Tauro abbiamo presentato un piano per il sud molto articolato adesso da quel piano molti di quei progetti sono stati trasfusi in questo piano di rilancio ovviamente ci sono progetti come ha ricordato lei infrastrutturali che sono la premessa per quanto riguarda i trasporti perché il sud possa crescere c'è un progetto gliene dico solo uno tra molto ambizioso ovviamente l'occupazione l'imprenditoria femminile questi sono al centro della nostra attenzione soprattutto per il sud ma dobbiamo in tutta Italia evidentemente colmare questo gap però ce n'è uno che è molto sfidante è davvero una grande scommessa che vorremmo affrontare e costruire anche tecnicamente non sarà facile una fiscalità di vantaggio diffusa per tutto il sud per poter attirare investitori per poter attirare imprese e quindi realmente consentire finalmente al sud di poter correre e io dico sempre se corre il sud corre anche il nord corre tutta l'Italia Buonasera Presidente Buonasera Ministri Presidente il 14 settembre dovrebbe ricominciare la scuola se gli enti locali concorderanno su questa data indicata dalla Ministra dopo pochi giorni si dovrebbe andare a votare dove si voterà nelle aule appena sanificate dove torneranno i bambini gli alunni in classe o in altri luoghi come chiede il Partito Democratico certamente un problema c'è Guardi ne parlavamo adesso di scuola abbiamo parlato tanto oggi con i sindacati è stato anche uno dei temi ovviamente è il centro delle nostre discussioni e diciamo è stata coinvolta ed evocata sotto forma di vari progetti per la scuola ne dico solo uno sovraffollamento delle classi noi abbiamo ben chiaro l'obiettivo di tornare a scuola la didattica è in presenza la didattica a distanza è stata una necessità il Paese lo dobbiamo ammettere chiaramente non era preparato quindi questa didattica a distanza ha evidenziato anche il divario digitale alcune famiglie dobbiamo riconoscere alcuni studenti non hanno potuto partecipare attivamente a prendere parte a queste lezioni a distanza ecco perché ritorneremo a scuola abbiamo introdotto una misura per consentire ai sindaci come commissari di procedere con urgenza agli interventi urgenti di edilizia scolastica per consentire il ritorno in sicurezza per quanto riguarda le elezioni ho visto che il Partito Democratico ha suggerito di trovare altri locali per lo svolgimento da adibire a seggi elettorali è una buona idea mi sembra quindi con la ministra Lamorgese chiederò subito di trovare dei locali alternativi perché è chiaro che abbiamo la prospettiva di elezioni poi anche i ballottaggi quindi rischiamo veramente di partire di dover subito interrompere per alcuni giorni e questo veramente non vogliamo consentirlo quindi cercheremo di trovare delle soluzioni alternative non me lo dica in questo momento ma la ministra Lamorgese che è competente sicuramente con lei lavoreremo e con tutto il governo per trovare delle soluzioni anche alternative se Casalino non si arrabbia Grillo l'ha sentito? no veramente no grazie grazie a voi buon lavoro